Buongiorno amiche e buongiorno amici bianconeri, ben trovati qui di primo mattino con questo contenuto che realizzo perché ve l'avevo promesso nel contenuto di ieri dedicato alle parole di John Elkan contenute nella lettera agli azionisti, ma nello specifico ad una questione per fare chiarezza una volta per tutte, perlomeno per quanto mi riguarda, ad alcuni evidentemente non è ben chiaro, ma adesso ne parliamo relativamente al ruolo di Cristiano Giuntoli. Grazie, davvero grazie di cuore per i tanti messaggi, per i tanti attestati di stima, anche per le critiche, perché anche attraverso le critiche, anzi a volte si cresce di più attraverso le critiche da un certo punto di vista, quindi tutto va bene, purché ripetisco, come sempre, ci sia educazione e rispetto. Procediamo con l'approfondimento di questo contenuto, mi raccomando, come sempre, se non siete iscritti al mio canale YouTube, iscrivetevi, azionate la campanella delle notifiche e via, lanciati verso quota 23.000 tutti insieme, mettete un bel pollicione verso l'alto, in fondo alla puntata, sperando possa essere tratta di vostro gradimento. Allora, io ieri non ho potuto commentare quella che avrei dovuto fare, ma essendo fuori in trasferta per lavoro, molto spesso, anche quando ci sono più argomenti, non si riescono, o perlomeno io non riesco a poter realizzare più di un contenuto, e quindi ho dato priorità a quello che ritenevo in quel momento fondamentale, dare voce, dare spazio, cassa di risonanza, a questa situazione che per me è veramente imbarassante, sottolineata da Rigosacchi, battuta di Sabatini, ripresa di dati ufficiali relativamente al patrimonio netto negativo di alcuni club, nello specifico italiani, una su tutte, e quindi commento oggi quelle parole che sono l'investitura, per chi eventualmente ne avesse avuto dubbi, e per chi ancora non ci credesse, assolutamente totale sul ruolo e sull'autonomia di Cristiano Giuntoli nel progetto che la Juventus ovviamente si è data, con la ricostruzione di un organigramma dirigenziale, che sicuramente andrà implementato e completato, e anche chiaramente di un'area sport composta da un elemento apicale, che è appunto Cristiano Giuntoli. Cosa significa? Sono seguite diverse polemiche nei giorni scorsi, per quanto mi riguarda, sotto alcuni miei tweet di qualche elemento che evidentemente non ha altro da fare che voler fare il so, la so, quella sorta di fenomeno da tastiera, e si diverte a commentare, non solo criticando, ma ergendosi anche a professore, e così facendo passare il sottoscritto che evidentemente se scrive qualcosa è perché ha determinati tipi di informazione, come colui che in quel momento lì sta raccontando balle. Nello specifico io ho voluto portare a conoscenza, essendo uscito in questi giorni insistentemente il nome di Antonio Conte, quelle che sono le mie informazioni, anche perché in molti, magari anche privatamente, mi scrivete ma è vera la storia di Conte, ti risulta Conte, ma tu parli di Tiago Motta, come te ne parlano in tanti altri, Conte lo dicono solo qui in pochi, cosa ti risulta, ma ci sono veramente le possibilità, e quindi mi sembrava giusto fare chiarezza su quello che io conosco. Poi, il fatto che lo conosca io, lo conoscono altri, non significa che si deve fare la gara a chi lo conosce prima, o se lo conoscono altri e dico che io lo conosco, non hai detto nulla di nuovo, non è per polemizzare, però ragazzi, davvero, con assoluto rispetto dell'opinione di chiunque, a volte è anche vero che i messaggi alcuni, alcuni sono dichiaratamente polemici e dichiaratamente offensivi, altri forse si malinterpretano. Fatto sta che, per quello che mi risulta, Antonio Conte fu contattato la prima volta, una volta messosi in piazza per poter tornare ad allenare la Juventus, da Francesco Calvo. Questa iniziativa di Francesco Calvo, che ho verificato, poi, chiunque può dire la sua, io, sulla base delle verifiche che ho fatto, fu un'iniziativa non condivisa con Cristiano Giuntoli. Quando vi ho parlato tempo addietro di alcuni attriti, mi riferivo proprio al fatto che Cristiano Giuntoli non prese di buon occhio il fatto che Francesco Calvo, di sua iniziativa, avesse contattato Antonio Conte. Perché sia chiaro una cosa, e l'investitura che fa John Elkann, alla lettera dei relazionisti a Cristiano Giuntoli, è chiara. C'è un responsabile dell'area sport, che è Cristiano Giuntoli, che chiaramente deve relazionarsi con la proprietà, e ha dei parametri da rispettare imposti dalla proprietà, ma che ha assoluta autonomia di decisionale per tutto quello che concerne l'area sport. E, fino a prova contraria, la decisione sull'allenatore della Juventus che verrà spetta in assoluto e in piena autonomia a Cristiano Giuntoli. Significa che se Francesco Calvo ha contattato Antonio Conte e Cristiano Giuntoli, non è dell'idea che Antonio Conte sia l'allenatore indicato per il nuovo corso Juve, decide Cristiano Giuntoli. Non decide Francesco Calvo, che è responsabile dell'area marketing. A ognuno le sue competenze, e anche questo punto, è stato chiarito. Quindi, quando faccio presente questo, lo faccio non perché debbo evidenziare che alla Juve non si vada d'amore d'accordo o ci siano degli attriti. Succede in tutte le grandi famiglie che si possa anche trovare punti di scontro. Non significa avere degli attriti, perché tra persone intelligenti, poi ci si accomoda, ci si parla francamente, e ha ognuno le proprie competenze. Francesco Calvo non è autorizzato, per quelli che sono chiaramente i ruoli, a decidere la scelta dell'allenatore della Juventus che verrà. Quindi, quando ho voluto ribadire che a me non risulta assolutamente Antonio Conte, per i motivi appena spiegati, dico anche che, siccome so per certo che, attraverso uomini di fiducia, Tiago Motta ha raggiunto un accordo totale, ovviamente ancora verbale, con la Juventus, attraverso ovviamente Cristiano Giuntoli, mi risulta che Tiago Motta sarà il prossimo allenatore della Juventus, qualora la Juventus cambierà allenatore. E a me risulta che la Juventus voglia, per volere di Cristiano Giuntoli, cambiare allenatore. E dalle parole di John Elkan agli azionisti, si evince che Cristiano Giuntoli è il responsabile e ha la piena autonomia di poter creare e plasmare la Juventus del futuro. Quando si dice plasmare la Juventus del futuro, non significa che ci deve aiutare a plasmare decidiamo noi e lui ci dà una mano. Significa che lui deve aiutare la proprietà a plasmare la Juventus del futuro per quelli che sono gli input e le disponibilità che ha dato alla proprietà, ma lui ha piena autonomia di poterlo fare. Quindi, vi confermo con assoluta certezza che la questione Calvo-Conte-Giuntoli, a sua origine, ebbe qualche motivo d'attrito. Tra l'altro, vi aggiungo anche che la Juventus non aveva piacere che certe situazioni fuoriuscissero, come è giusto che sia. Perché, non so se ricorderete, ma quando c'era un certo dirigente di nome Luciano Moggi, tante delle cose che accadevano all'interno di Juventus non erano ovviamente di conoscenza della stampa. C'erano meno canali, c'erano meno situazioni che potevano consentire la fuoriuscita di alcune notizie, ma con Luciano Moggi, diciamo, responsabile, dirigente responsabile, c'era una grande tutela delle vicende, delle faccende di Casa Bianconera. E questo è quello che alla Juve vogliono. E quindi succede anche che a volte qualche spiffero esca anche contro la volontà della società. E quindi, quando vi raccontano che non ci sono degli attriti, non è che vi raccontano una menzogna. Semplicemente c'è stato un chiarimento. A Giuntoli non piacque il fatto che Calvo, che peraltro mi risulta abbia comunque un certo rapporto con Antonio Conte, poi tra persone intelligenti, considerato che Cristiano Giuntoli è stato chiamato per plasmare la Juventus del futuro, per ricreare una Juventus competitiva, che rispetti i canoni imposti dalla UEFA, attraverso ovviamente un contenimento dei costi, alla riduzione degli ingaggi e valorizzazione del prodotto interno, ovvero dei giovani che fuoriescono dalla Juventus Next Gen, tutte parole spese da John Ilcan all'interno di questa lettera scritta agli azionisti, fanno sì che Cristiano Giuntoli, con un contratto quinquennale, non possa che essere lui a decidere in piena autonomia, che non significa che non si possa confrontare, sia chiaro, ma non deve avere l'avvallo di Francesco Calvo, non deve avere l'avvallo di nessun altro, che non sia eventualmente quello della proprietà, che gli ha affidato pieni poteri nel rispetto dei parametri, nel rispetto di quelle che sono i diktat della proprietà. Ma Cristiano Giuntoli decide in assoluta autonomia, senza dover rendere conto a nessuno, quale sarà il prossimo allenatore, quali saranno i giocatori eventualmente su cui puntare, magari, e questo ovviamente mi pare anche la scelta più intelligente, confrontandosi con l'allenatore, attraverso le sue richieste, la sua idea di calcio, Cristiano Giuntoli cercherà di andare a pescare quei giocatori che possano soddisfare quanto più possibile la volontà dell'allenatore, che siederà sulla panchina della Juve. Ci tenevo a questa precisazione, Giuntoli non deve rendere conto a nessuno, Giuntoli è il capo dell'area sport, decide in piena autonomia la scelta di giocatori e di allenatore per la Juventus, che verrà chiaramente rispettando i paletti, i canoni, i crismi, i diktat della proprietà, che deve, come scritto da John Elkan, ricreare un modello sostenibile. Tutto qua. Credo che sia abbastanza chiaro, non significa attriti, non significa correnti di pensiero diverse all'interno della Juve, non significa divisioni, dicotomie, semplicemente era doveroso fare questa chiarezza, perché ancora ad alcuni non è molto chiaro, ancora qualcuno continua a sostenere che sia Calvo, che è braccio destro di John Elkan, a decidere il nuovo allenatore. Sbagliate di grosso, perché Cristiano Giuntoli, che non è un burattino, ma è il miglior direttore sportivo della passata stagione, è ancora il direttore sportivo campione d'Italia in carica, è venuto alla Juve per ricostruire la Juve, per decidere e non per fare il burattino. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto come sempre, fino alla fine. Ciao.